io non sono uno youtuber o un influencer sono solo un divulgatore tecnico che cerca di semplificare i concetti più complessi per renderli comprensibili e ho scelto un web per condividerlo per capirci sono quello che in cantiere arriva a controllare a condividere con i professionisti idraulici ed elettrici cosa c'è da fare e sono quello che arriva con la borsa degli attrezzi a collaudare perché mi piace ma ci metto le mani in pasta veramente tutti i giorni però ho commesso un grandissimo errore ahimè con l'esperienza ho capito che è sbagliato ma te lo spiego dopo la sigla se mi segui da un pezzo sai che io sono un fautore delle scelte consapevoli è la scelta migliore che ognuno di noi può fare in qualsiasi contesto e ovviamente vale anche per quello degli impianti essere consapevoli vuol dire conoscere vuol dire approfondire la materia e saperne quanto basta ma conoscere sì varcare il limite effetto danni in kruger no è tecnicamente sbagliato devi saper riconoscere chi condivide l'obiettivo finale che tu hai e lo condivide con te e ti dà i consigli giusti per raggiungerlo ovviamente deve anche fermarti quando l'obiettivo è impossibile è sbagliato è raggiungibile e qui ho commesso un errore l'errore per cui veramente devo chiedere scusa io ho condiviso tantissime informazioni continuerò a farlo perché fondamentalmente mi piace e mi piace semplificare i concetti complessi per renderli più fruibili per semplificarli ovviamente con qualche sfaccettatura perché altrimenti verrebbe fuori una bibbia per ogni concetto che devo condividere devo condividere nel web e semplificarlo per renderlo comprensibile però bisogna capire bisogna essere coerenti e coscienti bisogna capire che un concetto tecnico iper semplificato deve aiutarti a fare scelte migliori ma questo non vuol dire che se tu conosci i concetti complessi perché te li ho semplificati di riflesso conosci la materia la materia la fisica e la termotecnica sono veramente complesse e soprattutto devono essere contestualizzate però ci tengo a dire una cosa io non sono in ufficio non sono quello che va in giro col telefonino con la webcam a fare i video io veramente certo sono in ufficio con i miei ragazzi con gli ingegneri a metterci la testa sui progetti a capire le virgole le sfaccettature ma io sono un uomo di cantiere ci vado vado a parlare con l'idraulico con l'elettricista quando si iniziano i lavori quando ci sono magari quei problemi complessi che bisogna risolvere assieme per trovare la soluzione migliore senza creare compromessi e senza compromettere il risultato questo mi porta ad avere una visione e un'esperienza che mi piace condividere però attenzione non recito a memoria brochure quello che faccio scrivo dico e divulgo nei video viene fuori da un'esperienza veramente lunga lo dico e lo scrivo ho iniziato quando avevo otto anni perché andavo a spasso con mio papà poi ovviamente l'ho perfezionato in azienda l'ho studiato l'ho approfondito sono stato in centro di ricerche ho fatto ricerche di mio e insomma sono annati anche quattro brevetti nel settore della termoidraulica e del riscaldamento in pompa di calore non voglio dirti che sono migliore no per carità non è questo il video sono solo diverso ma voglio che tu sia consapevole che l'errore di io ne so più di altri può soddisfare l'ego ma non ti aiuta ad avvicinarti all'obiettivo l'importante per esempio è capire il mio focus perché io parlo solo per chi ha una villetta un'abitazione singola una casa indipendente non parlo di appartamenti non parlo di uffici non parlo di capannoni solo abitazioni singole e solo quando l'abitazione è quella che tu vuoi o dovrai vivere con la tua famiglia quello è il mio obiettivo quello è il mio focus mi concentro solo su quello oltretutto solo per chi desidera il meglio non si accontenta ragazzi io ve la dico pratica sto condividendo tutto quello che sto imparando che sto perfezionando che sto migliorando a chi vuole costruire la propria villa che sarà 100% elettrica è rinnovabile più possibile e ha come obiettivo quello che prima o dopo diventerà autosufficiente ti avviciniamo sempre di più dai la parola indipendenza energetica è bellissima ogni giorno facciamo un piccolo passo per arrivarci farlo dall'oggi al domani è ancora difficile ovviamente da tutto quello che dico scrive condivido nei video tu devi trarre il meglio per trarre il meglio sicuramente puoi vederti un po di video puoi acquistare la guida moderna alle scelte degli impianti per la tua villa 100% elettrica o puoi acquistare il bundle dei tre libri dove uno l'ho scritto io uno l'ho scritto il mio socio e l'ultimo l'abbiamo scritto assieme quello che si chiama nutri la tua casa come una pianta ma i video sono fatti per farti capire un po come funziona per portarti alla consapevolezza perché tu riesca a capire con chi proseguire per raggiungere il tuo obiettivo e con chi no però anche qui mi raccomando non fare l'errore di cercare a tutti i costi il prezzo più basso o di cercare devo comparare il preventivo col miglior rapporto qualità prezzo perché non hai le basi per comprenderlo a prescindere dagli studi la termotecnica è una bruttissima cosa diventa bella solo quando la capisci ma per capirla bene ci vuole tempo quello che tu devi cercare e io spero di aiutarti con i miei video con i miei materiali con quello che divulgo quotidianamente tu devi cercare il professionista preparato non devi cercare il consulente che ti dice cosa fare e poi è ma tanto se succede qualcosa è colpa di tizio è colpa di caio è colpa di sempronio perché lui quando ti ha detto cosa fare ciao se ne va via non cercare il general contractor faccio tutto io lascia stare per fare un impianto che ti porti i massimi benefici ci vogliono i professionisti i plurale i professionisti e soprattutto per l'amor del cielo non cercare abbiamo sempre fatto così perché se mi segui da un pezzo sai che è il modo peggiore di iniziare la strada verso una potenziale indipendenza energetica quello che io ti invito a fare è allenare le tue sensazioni non iniziare ad accogliere i preventivi i preventivi ma sì dai vengo lì gratis in realtà copia in colla di quello che ho fatto prima buon saluti e baci non cercare quello ma sì dai e vediamo cosa fare poi ma se pompa o ibrido o pellet o stufa vediamo no una fava tu devi prima farti un'idea devi pensare e devi arrivare il più possibile ad un'idea di come pretendi che la tua casa sia finita e poi devi trovare le persone che condividono il tuo obiettivo ti aiutano a raffinarlo e ti accompagnano a raggiungerlo quella è la svolta e questo è quello che io mi auguro tu riesca a fare e tu riesca ad arrivare vedendo i miei video e leggendo le mie pubblicazioni da qui ovviamente i miei tre consigli preziosi pensa sempre all'obiettivo finale immagina la tua casa finita e muoviti in quella direzione perché è l'unico modo per arrivare presto o un po più tardi all'obiettivo se un professionista si mette di traverso perché non la pensa come te cambialo non perdere tempo mio nonno diceva sempre non sta a perdere tempo coi mussi ascoltate mio nonno era un contadino saggio non cercare di spendere meno che purtroppo è un problema comune che capisco e comprendo non cercare di spendere meno impegnati a spendere meglio per oggi è tutto un saluto alla prossima